Salve, oggi ancora una volta mi trovo a denunciare da qui fino al giorno 23 nella quale l'organizzazione Orsa Trasporti ha inteso proclamare la seconda azione di sciopero perché nonostante la prima azione che ha dichiarato uno sciopero per quanto riguarda l'esclusione della vaccinazione per il personale del comparto trasporti abbiamo dovuto mettere in campo una seconda iniziativa di sciopero che si terrà il giorno 23 di questo mese con inizio alle ore 9 del mattino fino alle 17 di sera abbiamo continuato ad essere conseguenziale con la prima azione di sciopero nel far capire ai preposti iniziando dal ministro della salute al ministro del lavoro che noi siamo una di quelle categorie che naturalmente sono più esposte non a caso le forti contraddizioni sono quelli che a livello nazionale vengono menzionate che il maggior rischio viene proprio intravisto per quando riguarda l'affluenza sui mezzi dei trasporti a livello locale e di altra natura e però non si fa niente per cercare di tutelare questo personale nel modo più assoluto poi con l'apertura delle scuole sapete bene che in orari ben definiti c'è un'affluenza maggiore iniziando dai servizi metropolitani che proprio lì intravediamo in certi orari proprio un modo di viaggiare che è indecente veramente è indecente c'è proprio si viaggia come sardine mi dovete spiegare come si possa evitare il contagio ma questo lo ripeto questo sciopero come secondazione non riguarda solamente alla tutela dei lavoratori del mondo dei trasporti ma soprattutto per la tutela dei cittadini perché non è possibile oggi ignorare una categoria del genere e con essa i cittadini che si viaggia in un determinato modo con particolare riferimento al trasporto pubblico locale ecco perché ancora una volta l'ossa trasporto ha inteso programmare una seconda azione di sciopero proprio perché non è accettabile nel modo più assoluto di continuare a disporre non solo la categoria di questi lavoratori ma anche come ho detto poc'anzi per quanto riguarda i cittadini e la cosa che più non possiamo continuare ad accettare è quella che si continua ad analizzare attraverso quello che è sia da parte del mondo scientifico e sia da parte della politica che situazioni molto più grave di esposizione vanno proprio viste nell'ambito dei trasporti però non si fa assolutamente niente né per tutelare i lavoratori di questo comparto né tantomeno per tutelare i cittadini quindi è veramente una questione del tutto inaccettabile come ho detto quindi noi il giorno 23 faremo questa seconda azione di sciopero ripeto che va dalle 9 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio ci auguriamo che in questa seconda azione di sciopero possiamo avere una grande partecipazione anche di lavoratori che non facciano parte della nostra sigla sindacale perché è una battaglia di civiltà, è una battaglia di dignità perché non ci sentiamo lavoratori di serie B non ci sentiamo lavoratori che ha già pagato un prezzo molto alto e che quindi merita la giusta attenzione però fino a questo momento non c'è stato quindi chi è preposto per fare in modo che naturalmente i lavoratori nell'ambito del comparto trasporti abbiano la giusta considerazione in equal misura come tanti altri lavoratori noi non intendiamo essere né primi né secondi meritiamo e vogliamo il giusto trattamento come lo hanno avuto tutti gli altri lavoratori anche con l'accordo l'abbiamo precisato in diverse occasioni che c'è stato col mondo delle associazioni datoriali con le organizzazioni sindacali confederali alla quale hanno fatto la stesura di un protocollo ma noi a questo punto continuiamo a dire che per quanto riguarda i lavoratori nell'ambito del mondo dei trasporti non è stata tenuta per niente in considerazione anche se si continua a dire che le vaccezioni devono essere fatte nell'ambito anche delle aziende noi non abbiamo alcuna risposta in merito e pertanto ecco veniamo sollecitate dall'intera categoria e abbiamo inteso ancora una volta cercare di sensibilizzare il mondo istituzionale a fare in modo che nella giusta considerazione vengono presi anche i lavoratori del mondo dei trasporti non siamo inferiori e né superiori a nessuno non critichiamo né colori quali sono stati già vaccinati e quelli che non lo sono stati ancora però siccome abbiamo già pagato un prezzo molto alto per quanto riguarda i lavoratori nell'ambito dei trasporti adesso diciamo basta ecco perché il giorno 23 incroceremo le braccia di nuovo dalle ore 9 lo ripeto alle ore 9 del mattino fino alle 17 per cercare di sensibilizzare il mondo istituzionale e pertanto chiediamo scusa anche all'opinione pubblica se arrechiamo qualche danno per quello che è la questione dei trasporti però ci rivolgiamo all'opinione pubblica e facciamo un appello cari cittadini sembra che naturalmente sia arrivato veramente il momento da non ignorare la categoria come nostra la nostra organizzazione Orsa Trasporti chiede scusa se arrega qualche danno come ho detto però era inevitabile che noi mettessimo in campo questa nostra seconda azione di sciopero per cercare di non essere ancora non considerati ma attenzionati grazie